Arrestato rapinatore seriale delle filiari della banca agricola, 8 colpi in 6 mesi in 4 province, Salvatore Cavallaro, 22 anni, cadanese, era anche un cliente di fiducia, firmava le rapine mandando un bacio alle dipendenti. La morte del ciclista marocchino travolto e ucciso da un furgone con Ashish nascosto nel calzino. Gli inquirenti non escludono che Rahali Omar, pregiudicato con precedenti specifici, facesse il corriere della droga in bici. Ibla, la protesta dei residenti che chiedono il ripristino del servizio bus navetta. Gli abitanti del quartiere barocco contestano l'apertura al transito di alcune strade di Ibla. Era un cliente di fiducia della Banca Popolare di Ragusa, peccato che i soldi che portava nelle varie filiali delle province di Ragusa, Catania, Messina e Siracusa, fossero quelli che rubava proprio da queste filiali. E l'autore infatti di ben otto colpi, essettuati dal 26 luglio del 2013 fino all'ultima rapina, 4 dicembre del 2013. Gli vengono contestate otto rapine per un bottino di quasi 100.000 euro. Colpi tutti firmati e alla fine con un bacio mandato alle donne presenti. Salvatore Cavallaro, 22 anni, cadanese, adesso è in manette. In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa. Sono state le squadre mobile di Ragusa e le consorelle delle altre province a riuscire a risolvere questo mistero, perché l'uomo agiva a volte anche a volto scoperto e poi, come detto, amava omaggiare di un macio, soprattutto le dipendenti delle banche di sesso femminile. Fra l'altro, era una persona molto altra, un metro e novantotto, che non sfuggiva. Ci è voluto comunque del tempo per arrivare a lui. Il primo colpo è il 26 luglio, nella filiale di Modica Alta, bottino 10.000 euro. Seconda rapina un mese dopo, 23 agosto, nella filiale di Piedimonte e Tenneo, 9.000 euro di refultiva. 30.000 euro, la rapina più proficua, quella effettuata nella filiale di Avola, il 3 settembre. Nello stesso mese di settembre, il 12 a Comiso e il 25 a Bronte, altre due rapine. La prima di 15.000 euro, la seconda, gli ha fruttato 7.000 euro di refurtiva. 8 ottobre, nella filiale di Capodorlando, per un totale di quasi 11.000 euro, sempre il 17 di questo mese. Nella filiale di Pozzallo, il bottino è stato di 10.000 euro. E infine, l'ultimo colpo, il meno proficuo, solo 1.500 euro di bottino, nella rapina eseguita nella filiale di Piedimonte e Tenneo. Il modus operandi era sempre lo stesso. Faceva il suo ingresso in banca, si avvicinava alle casse, con un balzo saltava il bancone ed estraeva il teriorino. Dopo aver rassicurato i dipendenti, li incitava a mettere tutto il denaro in cassa e si lamentava solo nel caso in cui fossero lenti o avessero poco denaro disponibile. Dall'analisi dei fotogrammi, dall'aiuto e dalla sinergia delle altre squadre mobili, si è riuscito ad arrivare a lui. L'uomo è stato arrestato, questa è una pura coincidenza, nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, presso la sua abitazione di Campo Rotondo e Tenneo, dai uomini della squadra mobile di Ragusa e Catania. E, praticamente, perfino quando è stato arrestato, ha rivolto un bacio agli uomini che lo ammanettavano. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi che il marocchino morto sabato sera sulla strada provinciale, dopo essere stato travolto e ucciso da un furgone, sia stato un corriere della droga in Brici. Omar Herr Ali, pregiudicato di 32 anni, è deceduto alle 19.30 di sabato all'ospedale Guzzardi di Vittoria per arresto cardiocircolatore a causa dei traumi subiti durante il sinistro, un trauma cranico e i traumi agli organi toracico-addominali. Il giovane marocchino si trovava in Italia senza permesso di soggiorno, ma aveva dei precedenti specifici per droga. È stato investito alle 17 sulla strada provinciale 87 a un Fiat Iveco Magirus condotto da un vittoriese di 48 anni con precedenti di polizia. Durante l'ispezione cadaverica, il personale sanitario, da qui appunto la pista delle corriere di droga con la bicicletta, hanno rinvenuto in un calzino del cadavere circa 10 grammi di sostanza stupefacente che era già suddivisa in stecchette. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, i documenti di guida e di circolazione del camionisto sono risultati regolari. Il pubblico ministero ha disposto la custodia della Salma presso lo sbitorio dell'ospedale. Un servizio di bus e navette efficiente che possa collegare a Ragusa con il quartiere Barocco, con capolinea da contrata tabuna a Piazza Libertà. All'indomane dell'ordinanza della discordia che consente il transito delle auto in alcune zone di Ragusa-Ibla, il comitato dei residenti suggerisce all'amministrazione di ripristinare il servizio di bus e navetta che è stato sospeso, residenti e commercianti insieme, per un unico obiettivo. Le proposte sono semplici e di facile attuazione, spiega Paolo Occhino, portavoce dei residenti. Servono aree di sosta ben delimitate in tutto il perimetro esterno dell'antica città. Non possiamo assistere in ermi alla presenza di migliaia di auto che transino dinanzi agli esercizi commerciali, non avendo tra l'altro la possibilità di trovare un'area di sosta. La centralina per il rilevamento di linguamento atmosferico nell'area antistante ai giardini Iblei è fuori uso da mesi. Per questa ragione chiediamo ai funzionari dell'ARPA di monitorare la qualità dell'aria. L'apertura al transito veicolare fino al 31 di marzo di alcune strade di Ragusa e Ibla ha sollevato un vespaio di polemiche. Nei giorni festivi e prefestivi, dalle 20 a luna di notte, è sospeso in via sperimentale fino al 31 di marzo il divieto di transito per gli automezzi nella zona di Piazza Odierna di fronte ai giardini. La sospensione del divieto di transito riguarda in sostanza il quadrilatero compreso tra la discesa peschiera e la zona di Viale Margherita, all'intersezione con la circonvallazione Ottaviano. Le pattuglie della Polizia Municipale coeduvati dai volontari saranno dislocate nella zona di Corso 25 Aprile per bloccare gli accessi in direzione di Piazza Pola. Le bruttissime impalcature che coprono la chiesa di Santa Maria delle Scale, lavori di restauro conservativi e delle opere d'arte mobili, il cui iter ha iniziato molti anni fa. I lavori però di restauro effettivi sono partiti solo due anni fa, potrebbero da qui a pochi mesi essere eliminati. Infatti l'opera potrebbe concludersi. Non appena l'ufficio tecnico comunale firmerà la determina, spiega il direttore dei lavori, l'architetto Roberto Floridia, l'impresa esecutrice potrà firmare l'atto aggiuntivo e portare a termine l'opera. Entro 50 giorni poi l'intervento sarà concluso. Questo significa che se l'ufficio tecnico comunale sarà tempestivo nel compiere questo atteso atto burocratico, cioè appunto la determina, a fine aprile potrebbero concludersi i lavori di restauro di questo monumento architettonico e artistico, uno dei più importanti di Ragusa. La chiesa sorge al termine della scalinata che da Corsa Italia e si affaccia sul Corso Mazzini ed è uno dei beni monumentali più rilevanti del patrimonio architettonico di Ragusa, non solo perché è riconosciuto bene UNESCO, ma perché vanta un'intera navata e tre cappelle ancora esistenti sopravvissute al terremoto del 1693. In questo fine settimana sono stati intensificati i controlli per prevenire le stragi del sabato sera nel territorio provinciale da parte del personale della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria. Sono state trovate quattro persone positive all'alcol test, denunciati due conducenti per l'uso di tagliandi assicurativi falsi ed elevate 13 infrazioni per eccesso di velocità con il ritiro di due patenti per sorpassi in curva. In particolare sono state denunciati un vittoriese e una dranida, uno di 34 anni e il secondo di 37, trovati appunto alla guida delle loro auto nella località di Chiara Montegulfi con tagliandi assicurativi falsi. Oltre alla denuncia penale i due soggetti sono stati sanzionati con verbali per circa 1600 euro e con il sequestro dei mezzi. Quattro carri allegorici che sfileranno lungo il corso principale di Chiaramonte per raggiungere poi Piazza Duomo. Chiaramonte-Gulfi si prepara al meglio al tradizionale appuntamento del carnevale. I carri allegorici sono in fase di allestimento al mercato ortofruttico di Roccazzo, ma la vera novità del carnevale chiaramontano è un concorso gastronomico tra le migliori scuole alberghiere con un piatto rivisitato legato alla tradizione e culinari di Chiaramonte e alla storia di Terra Matta. Sarà un'edizione ricca di novità, assicura l'assessore allo spettacolo Alessandro Gascone. I ragazzi, come sempre, si stanno preparando al meglio con i quattro carri con un montepremi complessivo di 12.000 euro. Appuntamento dunque il 2, 3 e 4 marzo per il carnevale più bello degli Iblei. Un asilo in campagna all'interno di un'azienda agricola multidattica dove i bambini al mattino potranno assistere alla mungitura e degustare i prodotti sani e genuini legati alla tradizione ragusana. Un progetto innovativo grazie alle fattorie sociali che presto potrà trovare spazio anche a Ragusa. In alta realtà è stata approvata la legge regionale sull'agricoltura sociale. Un progetto ambizioso, spiega il direttore della Coldiretti di Ragusa, Gerardo Forina, che verrà messa a punto il 21 febbraio a Palermo in un incontro tecnico con una delegazione di imprenditori ragusani. Il nido in campagna è un primo tassella di una realtà come quella ragusana dove la campagna entra fin dentro la città. Accanto al nido ci sono altri progetti legati al mondo del sociale e un riconoscimento a tutti quegli imprenditori agricoli, soprattutto giovani, che attraverso la multifunzionalità hanno esplorato forme spontanee di supporto alle fasce più debole della società, come ad esempio la pet therapy negli ospedali, i soggiorni per anziani in campagna, il coinvolgimento degli ipovedenti, l'integrazione nel mondo del lavoro di carcerate e tossicodipendenti. Dagli agrinido agli ospizi di campagna, le attività intraprese sul territorio sono molteplici e le soluzioni adottate rispecchiano le svariate forme garantite dalle imprese agricole, per soddisfare un'esigenza avvertita sempre più dalla collettività per il mantenimento di legari territoriali e culturali che costituiscono il vussuto di una comunità e spezio trono contestualmente proprio nella famiglia rurale gli interpreti più fedeli. La prossimità alla relazione sono valori antichi, sostiene il direttore Forina, è da sempre presente nel mondo condadino ragusano, così come la solidarietà, il mutuo aiuto, la cura e l'assistenza di membri all'interno di una cerca familiare allargata. In agricoltura in modo particolare c'è una predisposizione naturale per la valorizzazione delle persone di tutte le età e questa abitudine ha consentito di alimentare un welfare inclusivo più umano e rispettoso della fragilità. Si inizia con un nido in campagna per poi creare delle vere e proprie casi di accoglienza per gli anziani.